Grazie a tutti Grazie a tutti Senti Aniello, oggi la squadra ha rischiato praticamente pochissimo, eccezione fatta forse per quel fuorigioco che oggettivamente non c'era, fischiato sull'1-0 per voi, la nuova gioiese oggi ha dato l'impressione di essere una squadra che classifica alla mano se la può giocare anche per la vittoria finale, sei d'accordo? Sì, sono d'accordissimo anche perché abbiamo Sasa Taruso che è uno dei giocatori più forti che c'è in questa categoria, poi noi stiamo dimostrando partita dopo partita di meritarci da questa classifica e cerchiamo sempre di andare più avanti. E gli ultimi acquisti di Colossi e Gregorace non possono che aumentare il vostro tasso tecnico? Penso proprio di sì, penso proprio di sì perché sono giocatori fondamentali in questa vita che gli hanno sempre giocati e mi auguro sempre di fare il bene con tutta la squadra.